Ci avete preparato un'altra canzone, una sorpresa. Io vorrei ringraziare il maestro Stefano Pallatresi perché insieme oggi abbiamo deciso di fare un omaggio interpretato, diverso. Quindi non imitando la Carrà perché è impossibile, ma prendendo in base alle nostre note interiori e interpretando una grande artista. E a questo punto sottolineo non solamente la tua bravura ma anche il coraggio. Insomma perché è un omaggio, però insomma molto ben riuscito. Perché l'amor, perché l'amor, perché l'amor, perché l'amor. Vamos! Che se comparte, e chiedo sentir, immaginarte, te amo, te amo, te amo, ti amo, amo! Viva Raffaella! Grazie a tutti! Viva! Roberta! Ciao!